ragazzi abbiamo delle nuove letterine una frattesi una berardi e una magnanelli oh hai preso nota? calma amica è tutto sotto controllo dai ragazzi veloci non fatemi aspettare fino natale che i bambini arrivano fra poco come fra poco? andiamo bene ecco finito ma per la consegna come facciamo? dai giallo faccio una delle tue mandraccate pareva babbo natale consegna rapida oh se non ci fossi io dai eh che adesso tocca a te ciao come vi chiamate? e tu come ti chiami? Diego Diego? Alessandro ma avete scritto una lettera a babbo natale? si devo consegnarti un regalo sai però non sarò io questa volta a consegnartelo sarà una magia prova a bussare c'è un regalo magico bussate forte più forte di più chi è? chi è Diego? oh mamma mia è arrivata la letterina allora babbo natale vieni Alessandro vieni fuori questo è per te perfetto vediamo cosa c'è dentro apriamolo insieme c'è una maglia di magnanelli questo avevi chiesto giusto? vai tiramela forte forza Sassuolo oh pure sto Natale ce l'abbiamo fatta dai torniamo a giocare che c'è una partita da vincere ok ciao 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 Grazie a tutti.